Zoom Bellezza è il programma che da quasi 15 anni si preoccupa della salute e della bellezza delle nostre teste. Un binomio, quello salute e bellezza, che è imprescindibile quando si parla di capelli sani, perché i capelli sani sono sempre capelli anche belli. Come credo confermerà anche Giovanni Albanese, giusto? Esattamente, sì. Ciao caro Giovanni, ben ritrovato in questo spazio di Zoom Bellezza. Ogni tanto lo ricordiamo anche con Rosi, sono quasi 15 anni. Eh sì, il tempo passa, è vero. Per noi no, in realtà. Per noi si ferma anche grazie ai vostri consigli. Siamo infatti dell'adolescenza, allora, 15 anni. Esattamente, quindi questo è difficilissimo. Vogliamo ricordare ai telespettatori che ci seguono da casa che Zoom Bellezza appunto si è trasferito all'interno di Inonda con voi, per cui, se voi volete fare come la protagonista di quest'oggi, che conosceremo tra pochissimo, che si chiama Cristina, volete cambiare il vostro look? Non c'è bisogno di affrontare cambiamenti radicali perché Giovanni e Rosi vi ascoltano, vi guardano e vi ascoltano. Vabbè, potete iscriverci. I contatti sono quelli che la regia vi sta mandando. Adesso, in sovrimpressione, o scrivete a noi, o scrivete a Rosi, o chiamate a Rosi, o chiamate Giovanni, chiamate a noi, chiamate chi volete, venite qui e diventate protagonisti. Caro Giovanni, pochi giorni fa, il nostro Samuele Barbarossa è arrivato con la sua telecamera e ha seguito la trasformazione appunto di una telespettatrice, lei si chiama Cristina. Prima di conoscerla appunto attraverso le immagini che ci proporrà tra un attimo la regia, ti voglio chiedere se la scommessa è stata vinta? Beh, sicuramente sì, quello l'abbiamo visto proprio con l'entusiasmo di Cristina alla fine. Allora, ci sta che ci guardiamo l'arrivo di Cristina in salone e vediamo cosa è successo. Vediamo le immagini e le commentiamo assieme. Va bene. Ecco qua Cristina. Cristina, com'è arrivata? Beh, è arrivata con un look proprio un po' trascurato, nel senso che, essendo mamma, ha poco tempo anche a disposizione e quindi poco tempo per curarsi. Ha avuto voglia di questo grande cambiamento proprio per dare un po' una svolta e crearsi un attimino un po' una personalità diversa, particolare. Ogni tanto serve. Abbiamo visto nelle immagini che sono appena passate che le hai posato un apparecchio sulla testa. Sì, quella lì è praticamente una fotocamera che ingrandisce di 300 volte le immagini e quello la usiamo per fare dei test al cuoio capelluto per vedere se il cuoio capelluto è sano oppure anche per vedere la struttura del capello. Quello lo facciamo soprattutto quando facciamo delle colorazioni per vedere in che stato è il capello, se è molto trattato, che è stato magari decolorato, colorato, permanentato prima. E lì vedi esattamente la struttura del capello, se è vuoto, se è molto sfibrato. Di modo che noi, prima di fare un trattamento di colorazione, dobbiamo fare un riempimento del capello. Altrimenti, se il capello è vuoto, il pigmento non sa dove aggrapparsi e quindi scivola via subito. Scusa se ti interrompo, cosa vuol dire riempimento del capello? Un riempimento del capello vuol dire ricreiamo la struttura intercellulare del capello, di modo che il pigmento ha dove aggrapparsi quando facciamo la colorazione. Altrimenti il pigmento, dopo poche lavaggi, scivola via e il colore diventa sbiadito, perde completamente e diventa brutto. È un trattamento che voi fate in salone, quindi prima di applicare il colore? Prima di applicare il colore, esattamente. Prima facciamo questo tipo di analisi e poi da lì, in base al risultato, noi dopo ci comporteremo di conseguenza. Di modo che sapremo anche lì cosa fare dopo, prima e dopo. E quello che dovrà fare anche naturalmente a casa la persona che fa questo tipo di trattamento. Ecco, Cristina, in concreto che capelli aveva? Che capelli avete visto? Ma li aveva abbastanza sfruttati, anche perché aveva fatto colorazioni a casa, con prodotti sbagliati e poi si cerca di riparare. Quindi noi abbiamo dovuto ristrutturare anche lì un attimino il capello e fare tutta una lavorazione particolare per poi creare quel bel colore fruttato che abbiamo cercato di fare. Facciamo un passo indietro, forse proprio perché erano sfruttati li hai tagliati? No, lì l'abbiamo fatto proprio per il cambiamento, per la voglia di cambiamento, perché noi abbiamo sempre voglia di fare dei grandi cambiamenti. La gente viene da noi e ci richiedono proprio questo tipo di consigli. Logicamente noi gli diamo il consiglio, dopo sta nella persona a decidere se farlo o non farlo. Però la maggior parte delle persone arrivano proprio con l'intenzione, perché hanno fiducia. Vedendo i risultati che si vedono in televisione, la gente acquista logicamente fiducia. Ecco, abbiamo detto della colorazione. Tu eri già venuto un paio di settimane fa a parlarci proprio dei colori di tendenza. E abbiamo detto che quest'anno vanno molto i colori che si ispirano al mondo dei frutti. Quindi penso ad esempio alla buccia dell'albicocca, piuttosto che quella della pesca, alla fragola, eccetera. Ecco, sono tutti colori che si fondono armoniosamente. Li vediamo anche nei monitor che abbiamo alle spalle. Per avere questi effetti bisogna avere un capello preparato, immagino. Come facciamo ad essere trendy col capello sano? Beh, ma quello sta in noi comunque consigliare e fare il trattamento più idoneo sia alla persona sia al capello, nel rispetto del cuoio capelluto e del capello. Per quello che facciamo anche prima questo tipo di analisi. Che hai detto? Di modo che esattamente cercheremo di rispettare sempre quello che sia sia il cuoio capelluto che poi la struttura del capello. Giovanni, come facciamo, visto che ci stiamo avvicinando alla stagione calda, per mantenere? Ecco, detto che viene fatto il trattamento, viene fatta la colorazione. Come facciamo a mantenerla, nonostante il sole, i lavaggi frequenti? Lì, logicamente, ci sono, in base al problema che abbiamo alla struttura del capello, comunque ci sono dei prodotti anche che sono molto idratanti, perché il capello necessita proprio di idratazione, altrimenti si sfibra e logicamente devi mettere, ci sono degli spray, anche... Perché tante volte la gente è anche perigra, non vuole la maschera perché deve lasciarla su 10 minuti, poi la deve risciacquare, insomma la gente vuole le cose anche più spicce. E ci sono anche degli spray, degli spray che li puoi sprayare prima di andare in spiaggia, li puoi usare anche dopo shampoo, senza la necessità di risciacquarlo, quindi è una cosa velocissima. E questo ti protegge proprio il capello, perché ti chiude anche le scaglie del capello e te lo ammorbidisce. E mantiene il colore. E ti mantiene il colore, esattamente. Caro Giovanni, abbiamo due lettere per te, e allora partirei subito dalla prima, che in realtà non scrive a te, ma scrive a Zumbellezza. Vabbè, caro Zumbellezza, scrivo perché le mie amiche non mi aiutano, ho i capelli di colore e taglio neutri, castani e media lunghezza scalata, una sicurezza insomma, non sono io, sembra, ma sono stufa e vorrei stupire senza pentirmene, vorrei il parere dell'esperto. Come posso provare e vedere se starei bene con la frangia e i capelli biondi, Cinzia? Ma lì innanzitutto bisogna affidarsi al professionista. Se lei ha fiducia nel suo parrucchiere o nella sua parrucchiera, deve farsi dare un buon consiglio da lei. Poi ci sono le diverse possibilità, comunque se magari non li vuole fare i biondi, li vuole fare in un altro colore, quello è secondo della sua carnagione, il colore degli occhi. Sono diversi i fattori, se poi vuole fare la frangia, ci sono diversi tipi di frangia, non è che c'è solo la frangianetta e basta. Un ciuffone. Ma lo può adattare, si può sempre, ogni taglio lo si può adattare al viso. Affidarsi insomma. Affidarsi al professionista. Senti caro Giovanni, abbiamo lasciato Cristina con la testa a metà fatta. Sì. Vogliamo vedere come proseguono i lavori e soprattutto il risultato finale. Eccola qua. Dicci un po' cosa l'hai fatto. Ecco lì, ho dovuto un attimino, ho visto quel colore che aveva precedentemente, ho dovuto un po' decapare il capello perché altrimenti era troppo scuro. Poi ho dovuto corolarglielo, fargli anche delle mesh, il colore che abbiamo fatto. Siamo andati piuttosto sul colore fragola, come parlavamo prima, colori un po' fruttati, con delle mesh anche chiare e poi anche delle sfumature albicocca. Che poi si vedrà bene alla fine, quando vedi adesso. Ci sono dentro dei bei giochi di colore e poi anche il taglio in sé. Ho cercato di fare qualche cosa di, come si parlava anche nelle puntate precedenti, di pieno, non più sfoltito come si faceva prima o quei tagli troppo irregolari. Però sono andato un po' sul classico, sul morbido, per addolcire un attimino di più i lineamenti del viso e creare proprio più femminilità anche alla donna. Beh direi che l'effetto, insomma, parla da solo, è bellissima. Secondo me sì. È un'altra persona, veramente, credo che sia contenta. Sì, per me quello che conta è proprio il risultato finale e vedere la soddisfazione della persona quando abbiamo finito il lavoro. Quella è la cosa che ci appaga proprio di più. Senti caro Giovanni, io ti voglio ringraziare. Ricordiamo naturalmente ai telespettatori che si possono iscrivere a Zoom bellezza se volete dei consigli o se volete un cambiamento, non per forza radicale.